Qui lo stabilimento chiude, e noi che ci stiamo a fare? Che cazzo fa la... Brogna, scendi! Questa protesta nasce per la difesa del lavoro! Lo Stato ci deve provvedere! Ci deve garantire il lavoro! Cos'è che ha rovinato il tuo paese? Il mal costume, il mal affare? Sei scontato, sì. Meglio essere come te, no? Come come? Fascisti. Quando la Banca d'Italia faceva il suo lavoro, le controllava le altre banche. Ragionamenti su ragionamenti! Lei sta cominciando a tentare di farmi nervoso. Non ne potevamo più di questa prima repubblica. Io voglio continuare a lavorare così. Che, Michele, cosa sta parlando? Noi lo diciamo da 43 anni, noi non abbiamo sbagliato. Chi siete? DG3! Il DG3, ve l'avevo detto, io venivo! I lavoratori della GM non ci stanno a perdere il lavoro! Ok? Grazie! 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 Grazie a tutti.